Il grillo parlante torna in libreria, è uscito da poco I Sinistri, ultima opera di Roberto Gervaso, una galleria maliziosa di protagonisti del nostro secolo, da Mussolini a Bombacci, da Gramsci a Togliatti, da Mattei a Filtrinelli, da Scalfari a De Benedetti, da Moro a Beltroni e da Bertinotti a Oscar Luigi Scalfaro. Sono tutti ritratti inediti, alcuni ne escono bene, altri molto male, ma soprattutto l'invettiva colpisce Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica. Perché? E quello che esce peggio, secondo me, almeno me lo auguro, è il signor Eugenio Scalfari, grande, grandissimo giornalista, grande, grandissimo direttore, ma per me detestabile, mettiamo le virgolette, come moralista. Se lei dovesse consigliare un modo di lettura del suo libro, come lo consiglierebbe? Beh, bisogna cominciare, secondo me, dai personaggi di attualità, perché io credo di essere, l'ho scritto il ritardo di Bertinotti, per esempio questo samurai rosso, questo subcomandante Faustos, che crede di trasformare l'Italia in Cuba, se andasse al potere la trasformerebbe, e certamente io sei mesi fa ho immaginato che prima o poi ci sarebbe stata una crisi, ma una crisi a commedia degli inganni, così tanto per dare un contentino alla base, che era un po' nervosa. E cominciare con i personaggi viventi, con i personaggi viventi ad arrivare fino a Scalfaro, che sicuramente non è di sinistra, è diventato di sinistra per ragioni che lui sicuramente sa.